la puntata di safe drive continua con un servizio in cui sarete voi i protagonisti e so che avete già capito a cosa mi sto riferendo alla rubrica tester per un giorno Simone Marcellini imprenditore di Milano ha approvato per voi la nuova Land Rover Discovery prima di vedere però come se l'è cavata Simone davanti alle nostre telecamere diamo spazio alle news Duster rappresenta il poker d'assi per la casa di origine rumena Dacia dal momento del suo lancio avvenuto nel 2010 il sublo coast più famoso al mondo ha infatti conquistato oltre un milione di clienti in Europa di cui 119 mila in Italia un successo quello nel nostro paese dovuto non solo alla qualità del prodotto ma anche alle numerose iniziative ai progetti ideati esclusivamente per il mercato italiano tra cui le ormai famose versioni extra limited edition così per le estate 2017 Dacia presenta Duster Strongman con carrozzeria bianco opaca tetto nero a contrasto e una personalizzazione ispirata al tema marinaro Duster Strongman è nata dalla collaborazione con il marchio di caramelle Fisherman's Friend in occasione della sesta edizione della corsa ad ostacoli Fisherman Friend Strongman Run basata sulla versione laureate presenta cerchi in lega da 16 pollici dark metal vetri oscurati terminali di scarico cromato protezioni sotto scocca e l'esclusivo badge Fisherman's Friend Strongman Run disponibile in soli 100 esemplari è dotato di trazione integrale e motore 1.5 dci da 110 cavalli con un prezzo chiave in mano di 20.500 euro grazie a tutti